È passato solo qualche giorno dall'inizio dei playoff MLB e subito il meraviglioso gioco del baseball ci regala tantissime emozioni a partire dal primo turno dei playoff, le nuove Wild Card Series ribaltano completamente i pronosti degli appassionati e in realtà anche i miei per regalarci le Division Series che partono oggi con quattro sfide sicuramente molto interessanti. Partendo come al solito dalla fine, le sfide di cui parleremo al termine di questa presentazione saranno Cleveland Guardians, New York Yankees, Seattle Mariners, Houston Astros, Philadelphia Phillies, Atlanta Braves e San Diego Padres, Los Angeles Dodgers. Come si è arrivati a questo nuovo tabellone? Si è arrivati con le sfide di Wild Card che per la prima volta non sono più una partita secca ma sono appunto una miniserie al meglio delle tre partite. Pronostici che sono stati ovviamente ribaltati rispetto al video che ho fatto qualche giorno fa ma che hanno regalato comunque delle sfide parecchio interessanti a cominciare da quelle di cui andremo a fare un'analisi molto approfondita. Dopodiché faremo poi una presentazione per quanto riguarda le Division Series visto che con i nuovi pronostici che ci possono essere in questo momento potrebbe succedere anche qualche upset. Ma andiamo con ordine e partiamo da quello che è successo da venerdì a domenica per il riassunto delle Wild Card Series. Tutte serie tranne una, quella tra San Diego e New York Mets, terminate innanzitutto sul 2-0 per la squadra vincitrice. Ricordiamo che in questo primo turno di playoff la serie era il meglio delle tre partite. Di conseguenza se una squadra vinceva due partite consecutive la serie si chiudeva. Viceversa si poteva andare di fatto alla bella, usato un termine un po' bruttino, come è capitato tra San Diego e New York Mets. Andiamo con ordine però e parliamo della prima sfida che ha stato subito il mio interesse. Ovvero quella tra i Tampa Bay Rays e i Cleveland Guardians. Avevo detto che sarebbero passati i Tampa Bay Rays che erano una squadra in grado di fare un upset. E invece i Cleveland Guardians sono dimostrati una squadra corriacea, è vero, molto giovane, ma evidentemente con delle qualità che francamente non mi aspettavo di emergere in questi playoff. E parliamo senza dubbio del Monte di Lancio. Due partite molto belle, quelle tra i Rays e i Guardians. Gara 1, vinta dai Guardians per appunto 2-1. E una partita dominata da McLannan per quanto riguarda i Rays, ma soprattutto da Shane Bieber per quanto riguarda i Cleveland Guardians. Partita che è durata 2 ore e 17 minuti, veramente niente. Di tutt'altro avviso invece è stata la partita successiva. Gara 2, partita finita al quindicesimo inning col punteggio di 1-0. Partita leggendaria, anche qui dominio clamoroso da parte di entrambe le difese e in particolar modo del Monte di Lancio. Alla fine Tampa Bay si ritrova a schierare Corey Kluber che di mestiere in realtà farebbe il partente come rilievo. E Corey Kluber incasserà la sconfitta decisiva appunto nella parte bassa del quindicesimo inning che per dare un'idea è di fatto il settimo inning supplementare. Il lanciatore vincenti invece è il rilievo Sanhedges che con una grande efficacia per quanto riguarda soprattutto la palla curva riesce a mettere molti strikeout ai danni dei battitori dei Tampa Bay Rays e tenere in vita i Guardians che nonostante una valida in meno riescono assolutamente a portarsi a casa la serie ed affrontare gli Yankees nella Division Series. Partita che è veramente stata spettacolare nonostante il bassissimo punteggio, il minimo punteggio per la verità. Eppure al progresso i field si sono viste tantissime giocate difensive molto interessanti e domini del mondo di lancio. Una giocata importante difensiva la vediamo in questo momento. Difesa su Tampa Bay con Manuel Margot alla battuta ribalzante. Oseo Ramirez si inventa questa roba qui. Assistenza incredibile per Josh Naylor e per centimetri, forse millimetri, è out Manuel Margot. Siamo nella parte alta del dodicesimo inning e veramente per pochissimo c'è l'eliminazione del dominicano. E poteva essere sicuramente un'azione importante questa per i Tampa Bay Rays che potevano quantomeno avvicinarsi a marcare un punto. Si rimane dunque 0-0 e si arriva al momento fatidico. Siamo nella parte bassa del quindicesimo inning con Corey Kluber alla battuta sul piatto, o nel piatto, nel box di battuta meglio. Oscar Gonzalez che al primo lancio di Corey Kluber, al primo battitore affrontato, spedisce la palla oltre le recensioni del Progressive Field per un walk of home run che dà la vittoria ai Cleveland Guardians mettendoli sul tabellone e regalando anche il passaggio del turno nella serie successiva. Questa è la gioia dei tifosi del Progressive Field e Oscar Gonzalez si ritrova a essere l'eroe di gara 2 e dell'eliminazione di Tampa Bay. Partita che appunto ha regalato moltissime emozioni, partita assolutamente tirata. Mi aspettavo onestamente che Tampa Bay potesse fare un upset nei confronti dei Guardians semplicemente per una questione di abitudine. I Cleveland Guardians sono una squadra molto giovane che, è vero, ha vinto la division meritatamente per quanto riguarda la American League Central, ma non è più abituata da qualche anno a arrivare ai playoff. Ricordiamo che l'ultima apparizione di Cleveland, quando allora si chiamavano ancora Indians, era nel 2017. E invece Tampa Bay la conosciamo, sono 4 anni di prima che vanno ai playoff, hanno fatto una finale, spesso arrivano alle Championship Series e di conseguenza una volta arrivati a ottobre me li aspettavo più sul pezzo. E invece onore a Cleveland, onore a Terry Francona che riesce a gestire una grandissima squadra ed ad affrontare i New York Yankees nel secondo turno. Chi invece affronterà gli Houston Astros nell'altro secondo turno di playoff? Sono i Seattle Mariners, la vera sorpresa secondo me di questa prima parte di playoff, oltre ai New York Mets in negativo, ma lì ci arriveremo. Anche qui Seattle fa un upset, ovviamente, che ovviamente era contrario alle mie aspettative. Mi aspettavo che Toronto se la potesse giocare quantomeno in tre partite. E invece Luis Castillo prima e poi una partita incredibile in gara 2 regalano il passato di turno al Seattle Mariners di Julio Rodriguez, che sta veramente decidendo questi playoff. E non solo, la partita di cui voglio parlarvi è però ovviamente gara 2, perché i Toronto Blue Jays erano in vantaggio 8-1 di fatto fino alla parte alta del quinto, una partita che sembrava assolutamente indirezzata in favore dei canadesi. Alla fine, pezzettino per pezzettino, punto per punto, i Seattle Mariners rimontano e fanno veramente uno dei comeback più incredibili della storia dei playoff. Abbiamo visto già due partite, ma altamente spettacolari, da due lati diversi. Da una parte una partita iper difensiva, iperdomiata dai lanciatori e finita al supplementare. Qui, alla fine, la partita si decide comunque sul fumo di cotone. Non basta ai Blue Jays, uno straordinario Teoscar Hernandez, l'esterno destro dei Toronto Blue Jays, era veramente stato di grazia, addirittura protagonista con due fuoricampo. Questo è il primo su Robbie Ray, che è uno dei lanciatori più importanti dei Seattle Mariners. Questo è il fuoricampo che viene spedito, oltre alle recensioni del Roger Center, per la gioia dei canadesi che dovevano riscattare una gara 1 persa per 4-0, dove Luis Castillo ha fatto sicuramente una prestazione sontuosa. Teoscar Hernandez qui mette i Toronto Blue Jays sul tabellone e sembra una partita indirizzata già verso questa vittoria per i Toronto Blue Jays, che invece alla fine devono giocarsela sul fumo di cotone, sul, di fatto, ultimo inning. Si arriva addirittura sul 9-9 nella parte alta del nono inning, quindi l'inning decisivo. Adam Frazier sul box di battuta, Jordan Romano, l'Ital americano, sul monti di lancio. Il lancio del 68 gira Adam Frazier, palla che viene spedita di fatto nell'angolo morto a destra. È un doppio che porta a casa il punto del 10-9 e con questa grandiosa rimonta i Seattle Mariners si aggiudicano una partita che sembrava insperata. Ricordiamo che i Mariners erano sotto 8-1 e invece vincono 10-9 e affrontano gli Houston Astros in un derby dell'American League West. Quindi subito grandi partite in American League, altrettanto grandi partite ci sono stati in National League. Passiamo alla sfida tra i Philadelphia Phillies e St. Tulis Cardinals. Era l'ultima stagione di Albert Pujols, Yadier Molina e Adam Wainwright che ci tenevano a fare molto bene al Blue Stadium davanti ai propri tibosi e invece ci ritrovano una Philadelphia molto coriacea che riesce a sfruttare i momenti giusti e anche e soprattutto dei blackout importanti dei lanciatori di rilievo dei Cardinals. Questa è gara 1 che finisce 6-3 per i Phillies, una gara 1 che secondo me è già a pivotal game perché nel nono inning di fatto i Cardinals scrollano, non riescono a chiudere la ripresa e Philadelphia mette addirittura 6 punti in un unico inning, cosa ovviamente mai successa. Non era mai capitato che una formazione sotto di 2 punti, di fatto nella parte alta del nono, riuscisse a mettere 6 punti di fila per andare poi a vincere una partita di postseason. Fuori campo da 2 punti di Iepes aveva messo sicuramente un buon viatico alla partita dei Cardinals e invece alla fine la formazione di Rob Thompson, peraltro manager confermato da Philadelphia fino al 2024 dopo questo passaggio del turno, evidentemente è riuscita a mettere i punti che servivano. I punti decisivi arrivano in realtà non con una battuta di potenza ma con una validina perché Jan Segura, ex giocatore peraltro dei Milwaukee Brewers con questa battuta che passa secondo la base dei Cardinals, fa in modo che Philadelphia porti 2 punti a casa. Questi sono i punti del 2-2 e del 3-2 nella parte alta del nono. Questo è di fatto il turning point della partita e della serie su Adam Pallante che ha sostituito in realtà Hesley, il closer dei Cardinals, che sarà il lanciatore perdente. Fatto sta che la validina di Segura mette la serie in vantaggio per Philadelphia che poi andrà a vincere 2-0 anche gara 2, aggiudicandosi anche qui un derby della division perché parliamo di due squadre della National League East contro gli Atlanta Braves. Altro upset dunque su due partite perché come Seattle la testa di serie inferiore appunto riesce a sovvertire il pronostico. Stesso discorso capita nella ultima serie di Division Series, o meglio di Wild Card Series tra i San Diego Padres e i New York Mets. New York Mets che di fatto implodono perché perdono le due gare che potevano essere sicuramente decisive, ovvero gara 1 e gara 3. Quello che mi stupisce da tiposo Mets è che abbia steccato purtroppo uno dei migliori lanciatori della rosa, ovvero Max Scherzer che incassa tutti e sette i punti e gli permette a San Diego di stravincere meritatamente gara 1 e di fatto relegare De Grom al salvatore della patria, salvatore dei New York Mets. La cosa che fa ancora più specie, parlando ovviamente di Max Scherzer, è che il numero 21 si prende 4 fuoricampo consecutivi per far sì che San Diego totalizzi 7 punti. Il più importante è questo, quello di Jurikson Profar, giocatore del Regno dei Paesi Bassi che riesce a buttare questa palla oltre alle recinzioni del City Field di giustezza. Jurikson Profar fa fuoricampo da 3 punti, 6 a 0 per i San Diego Padres che poi ovviamente arrotoneranno il punteggio a 7 a 1. Ovviamente San Diego fa due partite su tre clamorose perché questa è sicuramente significativa perché contro Max Scherzer, uno dei lanciatori più forti dell'era moderna della MLB ma è ancora più significativa come finirà l'ultima partita, quella decisiva perché Joe Masgrove silenzia completamente l'attacco dei New York Mets il ragazzo di San Diego che gioca per i Padres, fa una prestazione incredibile i Mets totalizzano soltanto una valida in tutta la partita peraltro con Pitalonso, leader per RBI della National League e i San Diego Padres invece annichiliscono la formazione di Buck Showalter che deve uscire mestamente dai playoff e in qualche modo si è fatta la storia anche se dal punto di vista contrario perché i New York Mets sono la primissima squadra da quando esistono le Division Series, quindi parliamo del 1995 a uscire e non arrivare neanche a questo turno appunto dopo che il regular season ha vinto 100 e passa partite, in questo caso parliamo di 101 attacco dei Mets silenziato, il morale è evidentemente a terra io guardo quello che è la regular season, è una stagione comunque vincente che ha risollevato i Mets dopo anni di anonimato assoluto dopo la grande cavalcata del 2015 la proprietà è comunque solida, si potrà investire meglio in alcuni elementi probabilmente nella off-season, si è arrivati alle Division Series o meglio alle Wildcard Series contro una formazione che sinceramente non mi aspettavo tirasse fuori una prestazione così meritevole perché San Diego Padres, va detto, sono arrivati ai playoff, non dico per il rotto della cuffia ma per di meriti dei Milwaukee Brewers che hanno steccato la partitana della stagione e non mi aspettavo sinceramente che tornassero quelli del 2020 San Diego del 2020 era una squadra in rampa di lancio e attenzione perché le squadre che arrivano forte nei turni successivi potranno assolutamente dire la loro anche nel proseguo del tabellone dei playoff alla fine quello che conta è far vedere l'ultimo out di questa mestizia per quanto riguarda i New York Mets e di trionfo per i San Diego Padres Josh Hader lancia a casa base e la battuta è di Starling Martè assistenza per la via 53 ed è ballgame al City Field 6-0 per i San Diego Padres che si qualificano alle Division Series dove appunto gli aspetta un derby contro i Los Angeles Dodgers una ripetizione peraltro di una serie già vista nel 2020 con i playoff allargati a 16 squadre nella stagione Covid tutto quello che volete ma è stata una grande rivalità e lo è ancora adesso quindi attenzione perché senza dubbio San Diego Los Angeles Dodgers sarà la serie delle Division Series che adesso andiamo a presentare presentando ovviamente quello che è il format di questo primo turno effettivo di playoff dopo le Wild Card Series potremmo chiamarlo in realtà secondo turno e faremmo sicuramente meglio le Division Series a differenza delle Wild Card Series sono al meglio delle 5 partite dunque la prima squadra di questi 4 incontri che vincerà 3 partite si qualificherà alle Championship Series le finale di conference per usare termini di altri sport americani vedi per esempio NBA ed NHL partendo proprio da San Diego Los Angeles attenzione perché se sulla carta è un pronostico chiuso perché i Los Angeles Dodgers, come ho detto più volte sono insieme agli Astros la miglior squadra tucur dell'intera Lega appunto il morale dei Padres dopo aver battuto un'altra grande squadra come i Mets è alle stelle e abbiamo visto che la testa fa tantissimo soprattutto nei playoff se Darvish riesce a fare il Hugh Darvish visto in gara 1 contro Max Scherzer allora attenzione perché i San Diego Padres potrebbero avere qualche chance quantomeno di portarla a 5 partite se Hugh Darvish dovesse staccare la sua partita allora è più facile per ovviamente i Los Angeles Dodgers che rimangono favoriti evidentemente in questo turno di playoff va detto però che San Diego appena riuscisse a mettere in piedi la partita di Joe Masgrove potrebbe avere moltissime chance è vero che i Los Angeles Dodgers non hanno Walker Bueller out for the season ma è altrettanto vero che i Dodgers sulla carta sono ovviamente superiori ai Padres vedo favoriti i Dodgers sarebbe bello finisse in 5 per via della storia delle due squadre per via di come sono arrivati i frati a questa partita però attenzione perché i Dodgers sono stati costruiti per vincere e lo sappiamo dalla parte superiore del tabellone Philadelphia Phillies-Atlanta Braves l'Atlanta Braves hanno finito fortissimo la regular season battendo i Mets al fumo di cotone e Philadelphia Phillies sono arrivati ai playoff dopo 10 anni e hanno battuto i Cardinal squadra più forte quindi chissà che non ci possa essere anche qui un upset anche se Philadelphia evidentemente come Monti di Lancio è leggermente inferiore agli Atlanta Braves perché basta prendere il confronto tra Zach Wheeler, Aaron Nola per esempio con Kyle Wright, Spencer Strider o anche Anderson per quanto riguarda gli Atlanta Braves su questo punto di vista i Braves sono superiori sono due ottimi attacchi questo sicuro io mi auguro che possa vincere Atlanta Braves in 5 partite perché a Philadelphia mi è piaciuta molto come costruzione di gioco come primo turno in generale e il marathon delle chance qualora poi ha deciso di fare l'upset tanto meglio perché sarebbe il ritorno di una grandissima del baseball ad altissimi livelli dopo anni, è veramente di anonimato dall'altra parte invece abbiamo i Cleveland Guardians contro i New York Yankees partita che sembra secondo me più chiusa rispetto ad altri pronostici vedo gli Yankees secondo me vincenti in 4 perché la partita di Bieber può essere a vantaggio secondo me degli Yankees che hanno un difetto il monti di Lancio non è così continuo mentre magari i Guardians o i Indians chiamateli come volete anche se è piaciuto chiamarli Guardians hanno due punte su cui appunto investire vedi per esempio appunto Shane Bieber ma anche Tristan McKenzie altro grandissimo lanciatore certo gli Yankees sono famosissimi per avere un attacco sontuoso e possono compensare ampiamente un monti di Lancio che con una squadra di livello sulla carta inferiore come Cleveland può secondo me concedersi anche qualche punto in più ma attenzione perché Cleveland ha dimostrato di essere molto solita dal punto di vista difensivo e anche del monti di Lancio quindi se dovesse succedere che l'attacco degli Yankees venga silenziato allora gli Indians, potete chiamarli Indians ma appunto i Guardians hanno chance altrimenti vedo più gli New York Yankees in quattro partite è molto bella invece la partita, la serie meglio tra Seattle e Houston Seattle che è una squadra molto giovane molto simile va detto ai Cleveland Guardians anche se il monti di Lancio evidentemente dei Mariners è di livello superiore a Cleveland quindi un Robbie Ray, un Luis Castillo ma anche un Logan Gilbert possono dare più da torcere a questi Houston Astros certo non li vedo favoriti gli Mariners contro gli Astros spero finisca in cinque per gli Astros detto che non mi sono simpatici gli Astros e preferisco di gran lunga i Mariners se ci fosse l'upset sarebbe portato di ovviamente clamoroso ma ovviamente sappiamo già che nel baseball nei playoff è successo di tutto già in questo primo turno figuratevi ovviamente al secondo turno quindi ricapitolando un po' i miei pronosti spero nell'upset di Philadelphia che mi ha sorpreso tanto contro gli Atlanta Braves in cinque partite vinceranno secondo me i Dodgers contro i San Diego Padres New York Yankees favoriti sui Cleveland Guardians Seattle-Houston la vedo in cinque spero Seattle ma è verosimilmente Houston per una Championship Series che comunque vada sarà sicuramente molto interessante e ovviamente anche in questo caso ci sarà ovviamente il podcast dedicato di questa MLB Review per quanto riguarda la post-season questo dunque il recap del primo turno e la posizione anche del secondo turno fatemi sapere cosa ne pensate evidentemente Deanna e Iser, le vostre squadre del cuore quale episodio vi ha colpito di più per ora di questi playoff e aspettiamo la conclusione delle Division Series per il nuovo episodio del podcastone MLB il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti